benvenuti alla puntata passione calcio questa puntata è dedicata al calcio amputati e all'imminente impegno della nazionale a campionati europei che si rivolgeranno in cracovia polonia dal 12 al 19 settembre partiamo con l'alleatore della nazionale renzo vergani mister una nazionale che si sta preparando per questo evento comunque importante per questo momento nazionale che sta crescendo abbiamo visto grandi grandi cose e già tanti giocatori che stanno crescendo veramente tanto sì sì no assolutamente diciamo che il campionato sicuramente ci ha aiutato per crescere siamo un buon punto stiamo facendo una buona preparazione e niente i risultati li vedremo soltanto quando andremo in campo quindi per adesso sono contento un campionato che si è svolto regolarmente ha dato grandi risultati grandi squadre abbiamo visto tanti tanto gioco e siamo rimasti contenti di poterli vedere giocare perché visto che si parla tanto di pandemia ancora sì sì nonostante la pandemia diciamo che la nostra federazione la fispes ha voluto fortemente andare avanti perché insomma ci sembrava giusto dare un segnale positivo a tutti gli atleti e quindi siamo riusciti con un poche difficoltà a terminare il campionato che poi non è finito il campionato è finito però adesso avremo la coppa italia supercoppa da giocare a roma eh a ottobre eh dove effettivamente termineremo l'anno che abbiamo abbiamo giocato insomma abbiamo sentito il presidente contentissimo del campionato e soprattutto di tutti i ragazzi sì sì no ma quando riesce a fare queste cose e portarle a termine in un momento come questo direi che è un motivo d'orgoglio bisogna proprio essere felici decisamente in allora i ragazzi accanto in che squadre giocano si presentano te li faccio presentare si presentano loro io sono Emanuele Paduan e gioco nel Vicenza calci amputati di cui sono anche capitano io sono perché si sta abbassando perché col caldo abbiamo un sole doveva piovere io sono Francesco Messori sono gioco insieme a a Lele nel Vicenza e sono il capitano della nazionale calci amputati io sono De Fazio Vincenzo gioco nella Levante C faccio il centro avanti e sono orgoglioso di aver fatto gol contro il Montelabate che è come se avessimo vinto un campione questo potevi evitare Salve Francesco Ramuno il preparatore dei portieri e allora tanto Vicenza una grande squadra abbiamo visto un campionato giocata alla grande però il gol dietro è stato spettacolare il gol che ha fatto che ha indicato quello che sta dietro sicuramente il più bello è il campionato ah sì sì è stata la soddisfazione per i ragazzi perché abbiamo fatto un sacrificio una crescita incredibile quello è stata la soddisfazione più bella dargli a loro una gioia di quella di quella portata lì all'ultimo secondo dopo che mangiare tutto il gol è bellissimo questo è il calcio che amo io quello che farò nazionale esatto speriamo quale difficoltà ai ragazzi incontrate e si incontra ancora nel campionato e soprattutto che cosa potrebbe dare un là in più per migliorare il campionato secondo voi beh allora di sicuro la difficoltà più grande è sempre comunque quella di crescere di numero di giocatori e secondo me non solo in Italia ma in tutto il mondo vabbè ovviamente noi pensiamo a noi però la promozione penso che sia la cosa più importante per non far per non far morire insomma ai calci amputati o farlo rimanere in quello che è ecco cioè dobbiamo sempre puntare a crescere sempre di più per per cercare di formare sempre più squadre possibili per ampliare il campionato e anche per puntare poi ad obiettivi più grandi anche a livello internazionale chiaramente e quali sono le squadre che ritenete più forti in questo periodo ce ne sono talante ma di avversari che andrete a incontrare nel torneo ma in girone abbiamo la Turchia e la Georgia e sicuramente la squadra turca penso che senza dubbio sia la favorita per la vittoria appunto dei campionati europei una nazione che ci sono due campionati e il primo sono tutti i giocatori professionisti che fanno che giocano a calcio come lavoro di professione quindi diciamo un livello veramente molto molto alto e penso che saranno loro come nel 2017 a vincere i campionati europei loro sono secondo me un livello superiore rispetto a tutte le altre squadre poi anche la Polonia e l'Inghilterra sicuramente sono buone squadre i pregi e i difetti di questa squadra quali sono i pregi e con i casi il difetto della vostra squadra? lo stai chiedendo a me o a loro? al miss al miss pregi e difetti ma i pregi sono sicuramente che è un bel gruppo quindi già avere un bel gruppo sei a metà dell'opera secondo me nel calcio i difetti logicamente è che non sono professionisti quindi abbiamo tutte le difficoltà inerenti a questo delle difficoltà lavorative di famiglia e quindi non riusciamo mai ad allenarci veramente tutti insieme quindi insomma se si può chiamare un difetto diciamo che più che un difetto è un problema però alla fine non ci aiuta di certo tutto quello a livello di preparatori di portieri visto che è dietro e ne si era nascosto il preparatore di portieri come è nastro come stanno crescendo questi questi estremi difensori perché se sbaglia l'attaccante si può rimediare ma se sbaglia il portiere probabilmente il gol è sicuro beh si è detto tutto naturalmente ci sono quattro portieri al momento qui con noi diciamo che c'è il futuro anche qui altri sono dei ragazzi giovani che stanno crescendo puntiamo molto sul nostro portiere perché può essere l'uomo in più e quindi sarà fondamentale per noi portare due o tre portieri che possano fare la differenza noi stiamo parlando perché noi parliamo di calcio però diciamo che la decidora calciamputati e abbiamo visto in alcune situazioni azioni veramente rovesciate fantastiche che in realtà salvo un ronaldo che abbiamo visto e gli altri non non si trovano a fare queste cose c'è veramente un gioco oltre che incredibile veramente non sappiamo come spiegarlo però spiega lui bisogna essere un po pazzi e poi bisogna usare se arriva la palla giusta uno vuole provare a fare una rovesciata io penso che al momento giusto ti viene distinto bisogna anche farlo anche perché se riuscissi a fare una cosa così tanta roba io ho visto giocare il mondiale c'era il 10 che si chiama bari barisci no rami vabbè quello calciava in una maniera devastante cioè proprio come se fosse così avesse avuto le due gambe per cui quello è una cosa sua però allenarti per fare una cosa così non lo so se ti puoi allenare a fare una cosa così o sei un po pazzo però ci sono quelli 6 piani non abbiamo un giocatore specialista in questo però purtroppo è passato il suo tempo non possiamo averlo con noi una volta si diceva per il portiere che deve essere un po fuori di testa per poter fare grandi cose no ma li abbiamo non ti preoccupare non ci manca niente non ci manca niente abbiamo tutte le carte in regola io a questo punto vi pongo una domanda che dovrebbe essere una domanda nel discorso globale che cosa abbiamo dimenticato in questa discussione insieme perché più che un intervista una discussione vabbè io ti dico solo questo che andiamo a fare questo europeo che ci serve per la qualificazione il mondiale dobbiamo arrivare nelle prime otto assolutamente ma poi arrivare nelle prime sette perché solo sette andranno a fare il mondiale quest'altro quindi per noi è fondamentale fare bene se no addio mondiale quindi dobbiamo usare tutte le carte che abbiamo per riuscire a passare questo turno e riuscire arrivare poi nelle sette questo è importante io io vi ringrazio perché poi ci risentiremo in seguito perché mi racconterete subito dopo finito l'evento ci raccontate come come avete vissuto un'altra cosa l'emozione del del stare in campo e soprattutto nel divertirsi perché il calcio è divertimento l'unica cosa che si è dimenticato molto spesso la gente si dice è un gioco è un gioco un divertimento l'emozione si provano in mezzo al campo ai ragazzi beh allora io penso che per noi veramente il nostro sogno il sogno di ognuno di noi sempre stato quello di di giocare a calcio ad alti livelli di indossare la maglia della nazionale chiaramente per noi secondo me anche un discorso più particolare perché molte persone che hanno diciamo subito un trauma nella loro vita e persone che subito dopo il trauma magari pensano già come potrebbero fare per poter tornare sul campo da calcio ecco poter addirittura vestire la maglia della nazionale è come proprio un una forma di riscatto nei confronti della vita per quello che hai passato e e quindi insomma poi quando va in campo secondo me ci metti ancora più ancora più grinta e cuore per per dimostrare quello che quello che sei veramente in grado di fare anche senza quello che ti è stato tolto noi abbiamo seguito dall'inizio quando si cominciava a parlare di di creazione del campionato del campionato calcio amputati quindi abbiamo visto un pochettino la crescita e partire da zero ad arrivare a questo punto ad avere una nazionale che comunque si disputa un per quali per sei mondiali è sicuramente un ottimo risultato a questo punto sì sì assolutamente sì se logicamente se pensiamo che dal 2012 quasi 10 anni sono quasi dieci anni in dieci anni insomma abbiamo fatto dei passi ragionati speriamo di riuscire a crescere così tanto da giocare di stare per stare ai vertici insomma secondo me le possibilità ci sono stiamo crescendo tanto vediamo e un messaggio che diresti ai ragazzi di comunque fare sport in questo caso nel calcio però qualsiasi sport perché la disabilità non è un handicap ma potrebbe essere un punto di partenza io devo dire a tutti i ragazzi anche che incontro e che hanno questi problemi va di darsi in qualsiasi tipo di sport dove loro possono dare il meglio io personalmente e fino a 33 hanno giocato con due gambe e ora gioco con una gamba solo ma non è cambiato nulla anzi c'è la difficoltà più grossa e la gioia di vestire la vela nazionale e riuscire a fare una partita di calcio così come siamo messi noi è altro che orgoglio è una cosa meravigliosa per cui a tutti i ragazzi dico di non non preoccuparsi di rimetterci di rimettersi in gioco e di fare quello che a loro piace di più questo caso se venissero con noi a giocare a pallone sarebbe ancora meglio però di non mollare mai perché lo sport aiuta aiuto sotto tutti i punti di vista io sono felice di essere qua giocare nazionale e fare quello che mi piace di più giocare a pallone per cui ci ho bruciato le ferie non sono nato neanche un giorno in ferie ma sono qua io sono felice di essere qua per cui non è un peso è una gioia grazie grazie mister grazie a tutti i ragazzi grazie al preparatore che sta sempre nascosto è timido è timido è timido è perché calabrese è timido quindi vi ringrazio vi auguro e vi faccio in bocca al lupo per per l'evento che sta per arrivare per potervi qualificare ai mondiali perché così sarà bello vedervi con la maglia azzurra la maglia di vicenza con la maglia del levante quindi vedete soprattutto in un campo di calcio che vi divertite grazie 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 abbiamo abbiamo un visitatore chiedo chi è il nostro difensore marco pollicino della difensore capitano della levante c a levante c ti faccio anche a te una domanda semplice semplice poi verso portare tutto questo gruppo di persone che ho visto che sembrano quasi quasi sani mentalmente perché sono come loro anch'io no lui un po peggio allora forse ci siamo uniti tutto nello stesso gruppo mentalmente siamo quasi sani no l'unico sano forse lui ma forse non lo siamo ancora riusciti a capire no 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 è meglio rimanere quasi sani che essere completamente sani allora io come nel nel conteggio finale vi do i tre secondi perché vi saluto tre due uno buona giornata Sky são the first air absolutely ginaglia del Takhe 7 7 8 8 9 9 9 8 10